Costruito questo bando, molto convintamente abbiamo messo 60.000 euro a disposizione delle iniziative culturali, fa il paio anche con la promozione turistica attraverso la Sport Commission che facciamo, perché? Perché la cultura è un aspetto essenziale anche nel tessuto economico, muove persone, fa conoscere i territori, fa pensare, insomma, quindi tutte le situazioni e aspetti che sono collegati tra di loro. Quindi Camera di Commercio con questo bando intende aiutare e promuovere le iniziative culturali sul territorio, abbiamo avuto un grande riscontro, oltre a 14 iniziative finanziate su tutta la provincia di Varese, questa è una di quelle che direi che è certamente degna di nota, siamo contenti che siano venuti a presentarla qui. Tutto questo dovuto anche a queste campagne tipo Fai un salto a Varese che abbiamo promosso per promuovere il territorio, che ha avuto un riscontro veramente impressionante.